Anteprima Chianti, la primissima anteprima, partiamo col piede giusto, Ernesto Gentili che ci deve spiegare il carattere del Chianti in due o tre parole. Anche una in mezzo, quindi già la sciarpa che può andare lì. Il territorio è vasto, mezza Toscana, però se ha un senso parlare di Chianti in che termini? Di tutto di più. Di tutto di più. No, Chianti sappiamo che è un'area interessante, è un'area che deve anche insonovare, ambire a qualcosa di più, si può fare di meglio, però quantomeno con questa iniziativa si è introdotto un termine di punto di discussione, di confronto che si parla, c'era quasi la timidezza la vergogna di presentarsi solo con il Chianti, quindi ci deve essere un pochino più d'orgoglio, però ci deve essere anche, deve essere data anche la possibilità a piccole aziende di poter camminare con le loro gambe e quindi fare una politica che vada a incidere positivamente sui prezzi finali, a avviare una remunerazione.